Ultimi statti prima del calcio d'inizio. Giusto il tempo di far sentire alle due squadre come si tifa qui a Roma. Rosier, partiamo subito all'attacco. Primo pallone toccato. Primo pallone toccato. Primo pallone toccato. Primo pallone toccato. Passala! Si oppone da campione! Primo pallone toccato. Gioco interrotto e sballo. Sono qui! Contrasto e picante! Primo pallone toccato. Get up, bag, spin it, make it back time too. I can never let nobody tell me what they do. Get the chippin' on my thought at boy the deuce. Il gol è nell'aria. Un minuto all'intervallo. Il giropallo è eccezionale. Si salva senza problemi qui. Portierone che evita lo sbattaggio alla sua squadra. 30 secondi e suona la capa perla. Ci sono, ci sono. 10 secondi al riposo. 5, 4, 3, 2, 1, portano in vantaggio. Partita apertissima dopo il primo tempo. Vedremo chi ne avrà di più nella ripresa per portare a casa il risultato. Match che ricomincia! Passala! Dalla qui! Intervento al pancaccio. Ha un solo uomo da battere. Che parata! Si salva con una parata da applausi! Cos'è questo silenzio? Fuori la voce! Roma! Seccano il barco giusto! Portiere tranquillissimo qui! Posso andare in porta! A lontana! Lìa, lìa, lìa! Questa è lìa! Questa è lìa! Questa è lìa! Calciala via! Presto, presto! Buona giocata! 60 secondi al fischio finale! Veloce, veloce! Siamo qui! Provano a ristabilire la parità! Ehi! Calciala efficace! Hanno a disposizione 30 secondi per trovare il pareggio! Punito, questo interverto! Ehi! Mesنت qui! Long! Ancora mi 자세! 11, 12, 8, 7, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 20, 21, fits bad in front of the air! Grazie a tutti.